Il segnale nazionale tedesca, poi Zinedine Zidane, qui punta il diamante invece di Jacquet, di Marcello Lippi, tecnici rispettivamente dalla Francia, di nervi e di cuore. Arte palla al piede, in profondità, prova lo scampio con Inzaghi, Zidane si allarga per sotto, riceve però Del Piero per sotto. Lancio per Del Piero, intercettato da Bertotto. Zidane comunque al decimo minuto, riparte la Juventus, Zidane lascia sfidare, corre il pallone, salta Bertotto, il tocco per Del Piero, prova a girarsi Del Piero, pallone in mezzo, salta Locatelli a vuoto, Zidane, Zidane va verso il fondo, palla sul sinistro, toccato però il suo tiro, poi il francese cede a Del Piero, Zidane, Zidane, serie di finte, ancora Del Piero, Bollide, fuori! Pallato dalle difese avversarie, Zidane, palla sul sinistro, in profondità, ancora per Inzaghi, il tocco per Tacchinardi, Zidane, per sotto, Giuliano, il servizio per Zidane, quindi Deschamps, zero per l'Udinese, gol di Locatelli, Zidane in posizione della sinistra, raggiunge statuto, Zidane mette in mezzo, un grande intervento di Turci sul calcio di punizione di Del Piero, poi la girata di Del Piero, incredibile, un altro miracolo, poi la palla in gol, la palla in gol, il legge della Juventus, vediamo ancora il colpo di testa di Del Piero, molto bello, molto bravo ancora Turci, palla che si impenna, e poi... ...apertura per Zidane, adesso la Juve si distende con tranquillità, Tacchinardi, limite dell'aria in profondità per Inzaghi, Pessotto, Zidane, lavorando molto Zidane, palla al piede, avanza, non lo contrasta nessuno, Birindelli in profondità in Giuliano, Zidane, scaldano tutti i giocatori dell'Udinese adesso anche, Conte, Zidane, lancio verso Del Piero, Ferrara, recuperato da Marcello Lippi per questo match, Conte, Apertura per Zidane, porta avanti la palla elegantemente, lo insegue Cappioli, mette in mezzo, troppo all'indietro per Inzaghi, Pertotto, spazza via, in fallo laterale, Gianichetta, molto bravo, interrompe la trama offensiva, ma Zidane continua, palla sul sinistro, Birindelli, il tiro, corner, forse poteva Zidane, la battuta di Zidane, Ferrara, al lato di pochissimo, opportunità ancora per la Juventus, il cross perfetto di Zidane, il colpo di testa di Ferrara, al lato davvero di un niente, Deschamps, un collegio interessante, Zidane, il tocco per Del Piero, Del Piero non trova il tempo per il tiro, lo insegue Bertotto, Deschamps, profondità, Del Piero, il tocco per Zidane, limite dell'area, Zidane, palla sul destro, il tiro, fuori, Zidane, non c'è molto spazio, attenzione Inzaghi, Inzaghi, il tocco di Inzaghi, lette, Pippo Inzaghi, a segnare il suo quinto gol quest'anno, eccolo qua, molto bello anche il colpo di tacco di Pecchi, a smarcare Inzaghi, guardate come è riuscito Inzaghi, a tirare in azione, Poggi, palla sul sinistro, Poggi, prova a far filtrare, non vi riesce, ancora il muro eretto da Ferrara, con la collaborazione di Juliano stavolta, Zidane, Russia-Italia, vedremo come risponderà, Cesare Maldini adesso, le convocazioni per il ritorno, Deschamps, Birindelli, scambia con Zidane, Birindelli, mette in mezzo Birindelli, molto bene Locatelli, poi la difesa della Juve ha preso le misure, su questo giocatore, dotato comunque di una tecnica eccele, colpo di tacco di Deschamps per Zidane, manovra con i due francesi, Zidane tiene il possesso della palla, poi apre sulla fascia destra per Birindelli, deve inseguire il pallone, evitare il fallo laterale, Birindelli, molto di più in retroguardia, rispetto all'inizio della partita, Conte adesso, deve venire in Italia, arrivato, entrato in campo comunque, Mam, con il numero 9, il tiro adesso, il pallone, che dà l'impressione, del gol, ma a deviarlo in, in corner, vedete, anzi non è stato Turcci, è stato un difensore, 3 a 1 per la Juventus, non credo che l'Udinese, abbia più tante energie da spendere, anche in considerazione, l'incontro che ci sarà, martedì, Fisca Cesari, parte Zidane, Turcci, si salva con i pugni,